Cari amici, benvenuti nel canale Whispers of Wisdom. Oggi vi presento un video straordinario che vi porterà alla scoperta dei segreti della legge del paradosso. Vi invito a iscrivervi al nostro canale, attivare la campanellina delle notifiche e lasciare un like per sostenere il nostro lavoro. Saremo felici di condividere con voi preziosi insegnamenti per arricchire la vostra vita e raggiungere la massima realizzazione personale. Grazie per il vostro supporto. Nel buio dell'animo, dove la luce si smorza tra le pieghe dell'ombra, si cela un'antica verità, riservata a pochi e conosciuta come la legge del paradosso. Questo principio, apparentemente controintuitivo, sfida le nostre concezioni razionali e ci spinge verso un viaggio intricato, fatto di ostacoli e rinascite, ma anche di una bellezza selvaggia e incontaminata. La legge del paradosso ci insegna che spesso è proprio nei momenti di maggior contrasto e apparente oscurità che risiede la possibilità di una trasformazione radicale. È quando ci troviamo di fronte a situazioni apparentemente impossibili, a sfide che sembrano soverchiarci, che possiamo scoprire una forza interiore insospettata, capace di superare ogni limite. Guarda dentro te stesso, nelle profondità della tua anima, e troverai la chiave per comprendere questa legge misteriosa. In quei momenti di incertezza e dubbio, quando tutto sembra perduto, è proprio lì che si cela il potenziale per una svolta straordinaria. È come se il buio più profondo nascondesse la luce più brillante, pronta a risplendere nel momento in cui scegliamo di abbracciare il paradosso anziché fuggirne. Non è facile accettare questa verità. La nostra mente razionale cerca costantemente di razionalizzare ciò che non può essere spiegato, di evitare l'ambiguità e la contraddizione. Tuttavia, è proprio nell'apertura verso l'ignoto che possiamo trovare la libertà di esplorare nuovi orizzonti e realizzare il nostro pieno potenziale. Quando abbracciamo il paradosso, accettiamo il fatto che la vita stessa è un'opera d'arte intricata, tessuta di contraddizioni e dualità. È come se ogni ombra nascondesse un vagliore di luce, ogni sfida nascondesse un'opportunità di crescita. È solo attraverso l'accettazione di questa realtà che possiamo trasformare le nostre sconfitte in vittorie, i nostri fallimenti in successi. Ricorda sempre che sei il creatore della tua realtà. Attraverso il potere del pensiero e dell'emozione, puoi plasmare il tuo destino e manifestare i tuoi sogni più audaci. Ma per farlo, devi essere disposto ad abbracciare il paradosso, a lasciarti guidare dalle forze nascoste dell'universo anziché resistere. Sii coraggioso, sii audace. Affronta le tue paure più profonde e abbraccia il mistero della vita. Solo allora potrai veramente realizzare il tuo potenziale e vivere una vita piena di significato e realizzazione. Che tu lo chiami destino, fortuna o semplicemente legge dell'attrazione, ricorda sempre che il vero potere risiede dentro di te. La legge del paradosso è come un'opportunità per affrontare le sfide della vita con uno spirito aperto e una mente flessibile. Immagina di trovarti di fronte a situazioni che sembrano contraddittorie o impossibili da risolvere. Questi momenti non sono ostacoli, ma invece sono delle vere e proprie palestre per l'anima. Sono le occasioni in cui puoi davvero scoprire la tua forza interiore e la tua capacità di adattamento. Quando affronti un paradosso, sei chiamato a guardare oltre le apparenze e a trovare un nuovo modo di vedere le cose. È come se l'universo ti stesse sfidando a esplorare le tue convinzioni più profonde e a superare i limiti della tua mente. Invece di arrenderti alla confusione o alla frustrazione, puoi abbracciare il paradosso come un'opportunità per crescere e trasformarti. Ricorda che il paradosso spesso nasconde una verità più profonda, una verità che può essere rivelata solo attraverso il coraggio di esplorare l'ignoto e l'inaspettato. Quando abbracci il paradosso, ti apri a nuove prospettive e scopri una vastità di possibilità che prima potevano sembrare nascoste. Perciò, non temere il paradosso, ma accoglilo come un dono prezioso. È il catalizzatore della tua crescita spirituale e del tuo sviluppo personale. Affronta ogni paradosso con fiducia e determinazione, sapendo che alla fine emergerai più forte, più saggio e più illuminato di prima. Il paradosso è come un enigma avvolto in un mistero, ma è anche un'opportunità travestita da sfida. È come trovare la luce nell'oscurità o scoprire un tesoro nascosto nel mezzo del deserto. Quando ci imbattiamo in un paradosso, ci troviamo di fronte a una situazione in cui le regole del gioco sembrano essersi ribaltate, dove ciò che sembra logico diventa illogico e viceversa. Ma il paradosso non è solo un labirinto di contraddizioni, è anche un portale verso la comprensione più profonda della realtà. È come se la vita stesse sussurrando enigmi nel nostro orecchio, invitandoci a esplorare nuove prospettive e a mettere alla prova le nostre convinzioni. È un invito a pensare in modo creativo, a sfidare lo status quo e a abbracciare l'incertezza con coraggio. Affrontare il paradosso richiede una mente aperta e un cuore coraggioso. È un viaggio che ci porta oltre i confini del nostro sapere convenzionale e ci spinge a esplorare territori inesplorati della mente e dell'anima. Eppure, proprio in quel labirinto di contraddizioni, possiamo trovare una strana bellezza e una profonda saggezza che ci sfida a crescere e a trasformarci. Quindi, mentre ci immergiamo nel mistero del paradosso, possiamo farlo con un senso di avventura e meraviglia. Possiamo abbracciare la sfida e accogliere l'opportunità di scoprire nuovi orizzonti di comprensione e consapevolezza. In fondo, è nel cuore del paradosso che possiamo trovare la vera essenza della vita stessa. Il segreto della perseveranza risiede nel cuore della legge del paradosso. Questo sentiero, sebbene oscuro e disseminato di ostacoli, richiede una perseveranza incrollabile. È un viaggio che sfida costantemente le insidie del nostro ego, che tenta di trascinarci verso la facile via dell'abbandono, e le sirene del vittimismo, che ci invitano a rinunciare al nostro potere personale. Per perseverare lungo questo cammino, dobbiamo comprendere che le difficoltà non sono ostacoli insormontabili, bensì opportunità travestite. Ogni battaglia, ogni contrappasso, rappresenta una lezione preziosa, un'opportunità per rafforzare la nostra determinazione e perfezionare il nostro spirito. È fondamentale mantenere viva la fiamma della speranza e della fiducia, anche nei momenti più bui. La perseveranza non è solo una questione di resistenza fisica, ma soprattutto di resilienza mentale e spirituale. È la capacità di rimanere saldo nel proprio intento, nonostante le avversità, e di alimentare la fede nel proprio potenziale di superare ogni sfida. La pratica della perseveranza richiede un impegno costante e una disciplina ferrea. È come un'arte che va affinata giorno dopo giorno, con pazienza e dedizione. È attraverso la costante ricerca di miglioramento e l'incessante lotta contro le proprie limitazioni che possiamo accedere alla vera grandezza dell'animo umano. Tuttavia, è importante ricordare che la perseveranza non è sinonimo di testardaggine. È necessario saper discernere tra la perseveranza saggia, che ci guida verso il nostro destino, e la testardaggine cieca, che ci trascina in un circolo vizioso di sofferenza e stagnazione. La vera saggezza consiste nel saper riconoscere quando è il momento di adattarsi e quando è il momento di resistere con tutte le nostre forze. La chiave per mantenere viva la fiamma della perseveranza risiede nella connessione con la nostra visione più elevata, con il nostro scopo più profondo. Quando siamo animati da una passione ardente e da una missione chiara, siamo in grado di superare ogni ostacolo e di trasformare le nostre sfide in trampolini di lancio per il successo e il progresso. Perciò, abbraccia il segreto della perseveranza con tutto il tuo essere. Sii pronto ad affrontare le tempeste e le avversità con coraggio e determinazione. Ricorda che ogni passo avanti lungo questo sentiero oscuro ti avvicina sempre di più alla realizzazione dei tuoi sogni più audaci. Al centro della legge del paradosso si cela un viaggio introspettivo, un'immersione nelle profondità del nostro essere per riscoprire la nostra vera essenza. È un percorso di amore verso noi stessi, di accettazione incondizionata delle nostre fragilità e dei nostri punti di forza. In questa discesa verso l'interno, ci troviamo di fronte a uno specchio che riflette la nostra intera essenza. È un momento di verità cruda, in cui non possiamo più nasconderci dietro le maschere che abbiamo costruito per proteggerci dal mondo esterno. Qui, nel silenzio delle profondità dell'anima, dobbiamo confrontarci con la nostra verità più autentica, senza filtri né compromessi. Accettare se stessi incondizionatamente è una delle sfide più grandi e più nobili che possiamo affrontare. Significa abbracciare ogni aspetto di noi stessi, sia quelli che ci riempiono di orgoglio sia quelli che vorremmo nascondere agli occhi del mondo. È un atto di coraggio e di autocompassione, che ci permette di liberarci dalle catene dell'autogiudizio e di abbracciare la nostra piena umanità. Nel profondo del nostro essere, scopriamo che siamo molto di più di quanto possiamo immaginare. Siamo esseri di luce e di ombra, di gioia e di dolore, di speranza e di disperazione. È solo abbracciando questa dualità che possiamo veramente abbracciare la totalità di chi siamo e trovare la pace interiore che tanto bramiamo. Questo viaggio introspettivo è anche un'opportunità per scoprire i nostri veri desideri e scopi nella vita. Quando ci immergiamo nelle profondità del nostro essere, possiamo sentire il richiamo della nostra anima, il suo desiderio ardente di esprimere la sua verità più autentica nel mondo. È solo ascoltando questa voce interiore che possiamo veramente trovare la nostra strada e realizzare il nostro pieno potenziale. Inoltre, questo viaggio introspettivo ci porta anche ad abbracciare la connessione con il tutto. Scopriamo che siamo parte di un'unica coscienza universale, intrecciati in una rete invisibile di relazioni e interconnessioni. È attraverso questo senso di unità che possiamo veramente comprendere il potere della legge dell'attrazione e manifestare i nostri desideri più profondi nel mondo esterno. Quindi, immergiti nelle profondità del tuo essere. Abbraccia ogni aspetto di te stesso con amore e compassione. Ascolta la voce della tua anima e segui il suo richiamo verso la verità più autentica. Solo allora potrai veramente realizzare la tua grandezza e vivere una vita piena di significato e realizzazione. La legge del paradosso non rappresenta una formula magica per il successo, ma piuttosto una filosofia di vita, un cammino iniziatico che richiede dedizione, coraggio e una profonda onestà verso se stessi. È un invito a vivere con ardore e intensità, abbracciando la complessità della vita e forgiando la nostra anima nel fuoco della tenacia. È importante comprendere che la legge del paradosso non promette facili soluzioni o risultati immediati. Non è uno strumento per evitare le sfide o per ottenere ricchezza e successo senza sforzo. Al contrario, ci invita a immergerci nelle profondità della nostra esperienza umana, ad abbracciare la nostra intera gamma di emozioni e a confrontarci con le nostre paure e le nostre limitazioni. Questo cammino richiede dedizione e coraggio. È un viaggio nell'ignoto, dove dobbiamo lasciarci alle spalle le nostre sicurezze e aprirci alla possibilità di fallire. È solo attraverso il coraggio di affrontare le nostre paure e di superare le nostre limitazioni che possiamo veramente crescere e evolvere come individui. Inoltre, la legge del paradosso ci invita a vivere con ardore e intensità. Ci sprona a cogliere ogni momento con gratitudine e consapevolezza, a non lasciarci sfuggire le opportunità che la vita ci offre. È come se ogni sfida fosse un'opportunità per mettere alla prova la nostra forza interiore e per dimostrare il nostro impegno nel perseguire i nostri sogni più audaci. Infine, questo cammino ci insegna l'importanza di abbracciare la complessità della vita. Non si tratta di cercare semplici soluzioni o risposte facili, ma di abbracciare la bellezza e il mistero dell'esistenza umana. È solo quando ci apriamo alla complessità della vita che possiamo veramente apprezzare la ricchezza e la diversità dell'esperienza umana. Perciò, abbraccia la legge del paradosso con tutto il tuo essere. Sii pronto ad affrontare le sfide con coraggio e determinazione, e a vivere con ardore e intensità a ogni momento della tua vita. Solo allora potrai veramente realizzare la tua grandezza e vivere una vita piena di significato e realizzazione. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta dei segreti della legge del paradosso. Se avete apprezzato il contenuto di questo video e desiderate continuare a ricevere preziosi insegnamenti per la crescita personale, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, Whispers of Wisdom, attivare la campanellina delle notifiche per non perdere neanche un aggiornamento, lasciare un like per mostrare il vostro sostegno e condividere questo video con chiunque ritieniate possa trarne beneficio. Vi incoraggiamo anche a lasciare un commento con le vostre opinioni e riflessioni, perché la vostra partecipazione è fondamentale per la crescita del nostro canale. Grazie di cuore per il vostro supporto e vi aspettiamo al prossimo video su Whispers of Wisdom.